SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia, nella refrigerazione industriale. Avrebbero venduto per anni migliaia di dosi di eroina decine di storici tossicodipendenti nella Riminese. Sono stati arrestati dai carabinieri. La maxioperazione antidroga dei militari ha portato all'arresto di 5 persone. Altre 5 sono latitanti. Sarà l'azienda proprietaria dell'autocisterna coinvolta nell'incidente di Bologna a farsi carico dei risarcimenti del sinistro, che ha provocato un morto, 145 feriti e 10 milioni di danni. Il sindaco ha preso contatti con l'assicurazione per quella che potrebbe essere un'ingente constatazione amichevole. Continua a tenere banco la questione dei fondi bloccati per il bando periferie. Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, chiede al governo di prendere una posizione ufficiale. In ballo per la zona Ravennate ci sono 12,8 milioni per gli interventi in Darsena. Sul tema del bando periferie si inasprisce il dibattito a Rimini. Dopo lo sfogo del sindaco Gnassi, che ha parlato di rapina, Lega e 5 Stelle replicano duramente Gnassi e Delira, attaccato la parlamentare ricionese Raffaelli. Il suo progetto ha ottenuto una pessima valutazione, ha rincarato la consigliera regionale Sensoli. La proposta di istruire classe ad hoc per bambini immunodepressi e lontana dalla realtà è ghettizzato ai bambini stessi. Questa è la posizione del comune di Rimini in risposta alla proposta del ministro della Salute. Calcio, Davide Biondini ha sposato la causa del Cesena con l'entusiasmo di un ragazzino. L'ex giocatore del Sassuolo si è messo a disposizione di mister Angelini e vuole farsi trovare pronto in lista dei primi impegni ufficiali. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio, Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale serale. In apertura la cronaca maxi-operazione antidroga nel riminese con le indagini che hanno lambito anche il territorio Ravennate. I carabinieri di Rimini hanno arrestato cinque soggetti per spaccio di eroina, mentre altri cinque risultano a un momento latitanti. Uno di loro è morto. Avrebbero venduto per anni migliaia di dosi di eroina a decine di storici tossicodipendenti della periferia riminese. Le indagini dei carabinieri coprono i primi dieci mesi del 2017. In quel periodo sarebbero state almeno 2.000 le cessioni da parte di due gruppi di spacciatori che operavano nella striscia di campagna tra i quartieri di Gaiofana e Tomba Nuova. I rapporti interi correvano tra i due gruppi? I due gruppi erano in relazione amicali tra di loro. Lo studio dei profili Facebook infatti ci ha confermato che, sebbene operanti in due zone diverse e separati tra di loro, di fatto erano tutti amici. 11 le misure cautelari, di cui 10 in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 5 gli arrestati fino ad ora, altri 5 risultano latitanti e si trovano probabilmente all'estero, mentre uno è deceduto nel 2017 in un incidente stradale sull'Adriatica, strada ben conosciuta da tutti i soggetti che in tempi recenti si sono trasferiti nelle Ravennate. Fondamentale per le indagini anche lo studio dei profili Facebook degli arrestati. Un'attività svolta con metodiche tradizionali, quindi escutendo a sommare informazioni gli acquirenti, predisponendo dei fascicoli fotografici con i soggetti che sono dediti all'attività di spaccio sul territorio, fascicoli che sono stati predisposti grazie alla capacità dei militari, alle loro conoscenze dei soggetti di interesse operativo presenti in città e anche grazie allo studio, in maniera ovviamente investigativa, dei profili Facebook di questi soggetti che ci hanno dato modo di avere delle fotografie aggiornate e di venire all'individuazione di tutti i componenti dei due gruppi. Ci spostiamo sul nostro portale tr24.it, un fuoristrada con quattro giovani a bordo, due maschi e due femmine tra i 17 e i 24 anni, tutti della Romagna, si è rovesciato oggi pomeriggio in una strada boschiva bibbiana di Palazzolo, sul Segno, in provincia di Firenze. Il conducente Paolo Badiali, 24enne, di Faenza, è morto. Sono rimaste ferite anche due ragazze di 17 e 20 anni, una di Novara e l'altra di Forlì, accompagnate all'ospedale di Faenza. Il terzo ferito è un 22enne di Brescia portato in elicottero al Careggi di Firenze. I carabinieri hanno messo sotto sequestro il fuoristrada. Su indicazione del magistrato di turno, la salma è stata lasciata a disposizione della famiglia. Il veicolo è un fuoristrada, quanto si apprende inadatto alla circolazione su strade pubbliche, ma che veniva utilizzato per uso privato in campagna. Follia a Rimini, una notte a sirene spiegate, quella di ieri nel centro storico in zona Ponte di Tiberio. Erano circa le 23 quando i passanti, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, hanno udito alcuni spari provenire dal bacino antistante il monumento romano. A quell'ora le vie dell'area erano piene di gente. Le volanti precipitate sul posto hanno individuato sull'argine del canale una ragazza italiana che pare fosse preda dei fumi dell'alcol. In seguito alla perquisizione, gli agenti hanno trovato nella borsetta della giovane una pistola semi-automatica. In base alla ricostruzione, la ragazza avrebbe raggiunto un'imbarcazione dalla quale avrebbe sparato alcuni colpi. Dall'episodio non risultano feriti, ora gli inquirenti stanno indagando sulla provenienza dell'arma da fuoco. E torniamo a parlare dell'incidente di Bologna. Monta a 10 milioni la prima stima dei danni. Il Comune ha già preso contatto con la ditta proprietaria dell'autocisterna che ha causato la serie di esplosioni a catena, che si è detta pronta al completo risarcimento e nel frattempo arrivano le barriere anticuriosi. Sarà l'azienda proprietaria dell'autocisterna coinvolta nell'incidente a farsi carico di tutti i risarcimento della terribile serie di esplosioni che ha coinvolto Borgo Panigale nella giornata di lunedì, causando un morto, 145 feriti e almeno 10 milioni di danni. Questa è la prima stima in euro sui costi di ricostruzione effettuata dal Comune, anche se le cifre sembrano destinate ad aumentare. A Palazzo d'Accursi hanno già preso contatto con la compagnia assicurativa della loro Fratelli S.P.A., l'azienda coinvolta nell'incidente, per mettere in piedi quella che potrebbe essere la più grande constatazione amichevole della storia. Secondi piani, ogni cittadino dovrebbe documentare i danni subiti e prendere contatto con il Comune, che provvederà a farsi da tramite con l'assicurazione. In ballo ci sono i circa 5 milioni di risarcimento alle due concessionarie, assieme alle tante abitazioni che sono state investite dall'onda d'urto, per non parlare degli edifici pubblici, tra questi anche due scuole, e di tutti gli altri danni collaterali. Altro problema da affrontare riguarda quello della viabilità. In tal senso, Autostrade ha assicurato che non ci sono stati danni alle arterie principali e quindi non ci dovrebbero essere particolari disagi per la circolazione, oltre a quelli causati normalmente in questo periodo dall'esodo estivo. Nel frattempo hanno fatto la loro comparsa le prime barriere anticuriosi, montate sul cavalcavia che dà sulla tangenziale, per evitare che gli automobilisti rallentino per guardare il cantiere. A tornare sui fatti di lunedì è infine il Vescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, che ha scritto alla Questura per ringraziare le forze dell'ordine che si sono adoperate nei soccorsi. Si è vista all'opera una grande capacità degli uomini, ma non solo, aggiunge Zuppi, assieme a loro ha agito anche la provvidenza divina. E questa mattina sui luoghi dell'incidente ha fatto un sopralluogo il comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Sentiamo. Le ruspe sono ancora in azione, i camion rimuovono i detriti, mentre vengono abbattuti gli alberi colpiti dall'onda di calore e diventati pericolosi in via caduti di Amola. Terzo giorno dopo l'incidente sul viadotto autostradale e a Borgo Panigale si continua a lavorare nel grande cantiere, sopralluogo del comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi, che fin dei primi minuti dopo l'incidente dal Viminale è stato sempre in contatto con il comandante provinciale e il direttore regionale dell'Emilia Romagna. La situazione è una situazione stabile, stanno, come anche voi potete vedere, lavorando per togliere i detriti. Sono state fatte le prove di carico per la porzione di strada che è rimasta integra, quindi il traffico, lo veicolare può regolarmente fluire. Un'esplosione così non si vede di frequente, ha detto. Il sistema per gestire l'emergenza ha funzionato bene. Il perimetro della zona da verificare per ora non si estende. Non ci sono edifici nuovi da controllare. Ora sarà eventualmente necessario, ma è il nostro compito, lo facciamo volentieri e ci sarà necessità di andare a controllare su richiesta specifica dei cittadini. Petrate oppure porzioni di tamponature che devono ancora essere messe a posto, ma la maggior parte del lavoro è stato fatto. Il viadotto sopraelevato ha permesso all'esplosione di seguire un certo decorso. Diverso sarebbe stato se il trattato stradale fosse stato a livello del suolo. I danni sarebbero stati molto maggiori sia in termini di vita umana sia in termini anche di danni alle strutture e a quanto è vicino. Insomma, nell'evento estremamente importante c'è stata anche la particolarità che il tutto si è potuto sfogare verso l'alto, quindi non ha avuto quel effetto dannoso che poteva avere avendolo a livello più basso, al di sotto dell'impalcato. Ancora in tema di incendi, livelli leggermente anomali per gli idrocalburi policlinici aromatici, ma anche valori contenuti di diossine. Questo quanto emerge dalle nuove verifiche sulla qualità dell'area effettuate da Arpa e Ausla nelle aree interessate dall'incendio scoppiato il 3 agosto alla cava Zannona di Faenza. Le ultime analisi confermano dunque i valori anomali per gli IPA con un trend in calo rispetto ai primi giorni, ma rilevano anche la presenza di diossine, sostanze che inizialmente non erano state trovate. Il livello degli inquinanti monitorati appare comunque molto contenuto e non si evidenziano particolari rischi per la salute. Si conferma inoltre che il materiale bruciato è in prevalenza legno vergine, ma che nella cava sono presenti anche potature e resti di alberi da frutto. Sul nostro portale TR24.it è stata breve l'udienza per il fallimento dell'Associazione Calcio Cesena davanti alla giudice del Tribunale di Forlì, Barbara Vacca. Il pubblico ministero, Filippo Sant'Angelo, ha insistito sulla richiesta di fallimento presentata nel giugno scorso e il presidente della C Cesena, Giorgio Lugaresi, non si è opposto essendo fallito il tentativo di ristrutturazione del debito, ex articolo 182 bis della legge fallimentare. La giudice ha preso atto delle dichiarazioni delle parti che riporterà al collegio che nel giro di 24-36 ore prenderà la decisione, scontato l'accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica e la nomina di una curatore fallimentare. E torniamo su un argomento caldo di questi giorni, i fondi bloccati dal governo per il bando periferie. Questa volta lo facciamo sentendo il sindaco di Ravenna, Michele De Pasquale, che chiede al governo di prendere una posizione ufficiale. A seguito dell'emendamento dei 5 Stelle al decreto 1000 proroghe che blocca i fondi previsti per il bando periferie, si allontanano anche i 12,8 milioni di euro previsti per gli interventi in Darsena di Ravenna, area per la quale il Comune aveva appena presentato gli 11 progetti esecutivi. Ravenna è stata una delle città italiane a presentare tutta la documentazione richiesta, quindi il nostro caso, dentro a uno scenario paradossale per tutti, per noi la beffa è ancora più forte nel caso in cui si dovesse procedere in questa direzione. In realtà abbiamo sentito in questi giorni solo dichiarazioni sconclusionate di alcuni parlamentari e non c'è stata una presa di posizione delle proprie del governo e quindi come prima richiesta, ancora prima di fare polemiche, come Anci abbiamo chiesto una presa di posizione ufficiale del governo rispetto a come voglia procedere. Noi riteniamo di avere tutte le ragioni perché siamo stati corretti, abbiamo rispettato tutte le tempistiche e pretendiamo che i finanziamenti vengano mantenuti alla Camera, il provvedimento si può ancora cambiare. In realtà in sé per sé il provvedimento rappresenta solo una potenziale dilazione dei tempi e quindi se il governo conferma la volontà di procedere non c'è neanche la necessità di attendere il passaggio alla Camera, però ripeto, rimane più che altro lo sgomento per un processo che era già arrivato a compimento, che per la vena significa risanamento ambientale, riqualificazione di spazi pubblici e privati, investimenti privati, investimenti pubblici e soprattutto per non essere stati neanche coinvolti preliminarmente in una discussione. Ci siamo trovati questo comma che a leggerlo è quasi indecifrabile e che dall'interpretazione che ne danno molti potrebbe determinare un resto del processo. E su questo argomento prosegue lo scontro tra maggioranza in Parlamento e i sindaci. Lega e 5 Stelle replicano il primo cittadino rimenese Gnassi e dicono il suo progetto era scarso. Scoperchiato il vaso di Pandora dei finanziamenti alle periferie sarà dura ora trovarne il coperchio. Mercoledì il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha minacciato di non versare l'IMU allo Stato se non verranno ripristinati i 18 milioni di euro che gli erano stati promessi nel 2017 per riqualificare il lungomare nord della sua città. L'emendamento approvato in Senato ha ribaltato le carte in tavola. Abbiamo sbloccato un miliardo di euro per fare investimenti in 8.000 comuni e non solo in quelli che hanno partecipato al bando, ha detto il senatore riminese 5 Stelle Marco Croati, il quale precisa che le 24 città arrivate prime nella graduatoria stilata dal nucleo di valutazione voluto dal governo riceveranno finanziamenti immediati. Tra queste, oltre a Rimini, non risultano nemmeno gli altri capoluoghi romagnoli, Forlì, Cesena e Ravenna. Punteggi troppo bassi. Il progetto di Gnassi ha ottenuto una pessima valutazione e tra quelli da verificare, rivalutare e forse rivedere, ha detto la consigliera regionale pentastellata Raffaella Sensoli che ha aggiunto prima di alzare polveroni mediatici è bene che il sindaco di Rimini rifletta sulle proprie mancanze. A rincarare la dose la Lega con la parlamentare riccionese Elena Raffaelli. Gnassi delira. Il PD ha garantito soldi che non poteva spendere. In Senato abbiamo sbloccato 2 miliardi di euro per tutti i comuni. Ma il primo cittadino riminese non si dà pace. Parla dell'8 agosto come del giorno della rapina ai comuni e annuncia che, per paradosso, proprio quel giorno RFI ha stabilito un contributo di 5,5 milioni di euro per un sottopasso a Rimini Nord previsto proprio nel progetto del bando periferie. Un'altra questione spinosa che sta facendo molto parlare in politica, la proposta di istituire classi ad hoc per bambini immunodepressi è lontana dalla realtà e ghettizza i bambini stessi. Questa è la posizione proprio del Comune di Rimini in risposta alla proposta del Ministro della Salute. Sono una cinquantina i bambini immunodepressi in provincia di Rimini, quelli per i quali contrarre ad esempio il morobillo potrebbe risultare loro fatale e che per difendersi non possono ricorrere al vaccino ma possono solo contare sull'immunità di gregge, ovvero una copertura vaccinale della popolazione superiore al 95%. La Ministra della Salute ha proposto l'istituzione di classi ad hoc per bambini immunodepressi nel territorio riminese e sarebbe realizzabile prima dell'apertura delle scuole? Spero di no, che non si avvii con questo percorso perché prima ancora che il numero c'è un tema didattico. Perché vietare a questi bambini di condividere gli spazi e i momenti con altri bambini? Perché rintanarli nelle aule quando non possono stare con altri bambini che non hanno avuto o non si vuole dargli la possibilità di essere vaccinati, renderli non vaccinati e anche precludere con la legge attuale la possibilità di entrare a scuola. Anche il solo pensare a classi speciali per bambini segna un arretramento culturale di secoli, così Morolli. La reputo molto grave perché è lontana come detto dalla realtà e soprattutto ghettizza dopo anni di conquiste scolastiche questi bambini e tutta quanto la comunità scolastica. Penso che sia necessario fare un passo indietro non solamente da un punto di vista isolativo ma soprattutto di mentalità e di pensiero sulla scuola. A Forlì ora il mercato coperto di Piazza Cavour d'Anna è protagonista di un progetto di riqualificazione che nonostante le varie interruzioni continua ad andare avanti. Vediamo a che punto sono i lavori. L'obiettivo è quello di farlo diventare un punto di riferimento per la gastronomia cittadina e non solo. Inserito in una delle piazze più vive di Forlì circondata da locali e ristoranti, il mercato coperto di Piazza Cavour continua la sua strada verso una nuova vita. Un progetto complessivo da un milione di euro investiti per far diventare il mercato delle erbe una vera e propria chicca. I lavori di riqualificazione infatti continuano. Le pescherie in questi giorni saranno trasferite nella nuova zona loro dedicata, mentre da poco ha preso il via il cantiere per ripristinare quella che era la vecchia pescheria. I lavori dovrebbero finire entro Natale. In quell'area verranno poi trasferite tutte le attività ortofrutticole. Nel frattempo verranno smantellate i banchi al centro dell'antico mercato coperto e riqualificati i negozi posizionati vicino all'ingresso. Il primo stralcio di lavori dovrebbe terminare entro il prossimo dicembre e già con l'anno nuovo si pensa di partire con il secondo lotto che prevede l'eliminazione dell'attuale tettoia. In autunno verrà aperto il bando per l'assegnazione di quattro negozi riqualificati e altrettanti banchi che dovranno diventare luogo per la promozione e vendita di prodotti tipici del territorio. Insomma, se tutto va liscio, entro circa un anno la città di Forlì dovrebbe avere un nuovo mercato riqualificato tra tradizione, modernità e gastronomia tipica del territorio. Ancora le notizie con le nostre brevi. Bologna. Un 42enne del Bangladesh è stato rapinato la scorsa notte dall'uomo con cui si era accordato per un affitto. Un brasiliano 29enne che ha agito con la sorella e un marocchino di 21 anni. Dopo avergli sottratto il portafoglio e il cellulare, i tre sono stati arrestati. Forlì. Si segue la pista dolosa per l'incendio che si è sviluppato ieri sera in un appartamento di Castrocaro. Le fiamme sono partite dalla camera da letto, ma il 54enne che normalmente la occupa non era in casa. I tecnici stanno valutando l'agibilità della struttura. Rimini. Il Comune ha sottoscritto un accordo con casevacanza.it, sito leader per gli affitti turistici, per rendere automatica la riscossione della tassa di soggiorno. I prezzi degli alloggi disponibili sulla piattaforma online saranno già comprensivi dell'imposta. Rimini. È stato confermato per i prossimi tre anni il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La MotoGP correrà sul circuito di Misano Adriatico fino al 2021, con possibile proroga per altri due anni. Lo hanno annunciato i Comuni Rivieraschi e la Repubblica di San Marino. La linea passa ora da Andrea Zanzi per gli aggiornamenti sportivi. Ben trovati su TR24 Sport. Subito con il calcio e le dichiarazioni di Davide Biondini. La chiamata del Cesena è stata come una bomba, così il centrocampista che è tornato in bianconero dopo ben 15 anni. Ora avrà il compito di guidare i più giovani in mezzo al campo. Vediamo. È sembrata una trattativa lunghissima, ma alla fine è stata forse più semplice di quanto si possa pensare. La difficoltà più grande per me è stata quella di cambiare idea su quello che era il mio futuro, perché io avevo deciso di smettere per fare qualcosa di diverso e misurarmi in un ambito diverso. Quindi al di fuori dal campo ho accettato di continuare a giocare solo per il Cesena. Questa cosa del Cesena è arrivata come una bomba e ha scombusolato tutto quanto. mi è ritornata la voglia di giocare, di mettermi in campo per dare una mano a quella che è oltre ad essere la squadra in cui sono cresciuta, è anche la città a cui tengo di più. Penso che la convivenza con Beppe sia la cosa più facile di un'avventura che sarà difficilissima per tantissimi motivi. Però adesso si deve ripartire, è inutile pensare a quello che era il Cesena fino a un mese fa, perché per noi può essere solo un peso e un fardello che non possiamo permetterci di portarsi dietro. Noi dobbiamo solo pensare che abbiamo la possibilità di riscrivere la storia di questa società partendo da una pagina bianca. E Fabio Scozzoli ha coronato la propria partecipazione ai campionati europei di nuoto a Glasgow, conquistando una splendida medaglia d'argento alle spalle del fenomeno di casa ad Ampiti. In servizio. È terminata con una grandissima soddisfazione la prova di Fabio Scozzoli nei 50 rana ai campionati europei di Glasgow. Il Forlivese ha chiuso la propria gara conquistando una medaglia d'argento grazie all'ottimo tempo di 26,79. Perfetta la sua strategia, a cominciare dalla partenza, lanciatissima davanti a tutti gli umani, ma non ad Adam Pitti, mostruoso per tre quarti di gara fino a chiudere in 26,09. Terza prestazione di sempre sulla distanza breve. Dietro di lui il solo Scozzoli a reggere l'urto. Una progressione solidissima che ha portato il Forlivese ad anticipare lo sloveno Peter John Stevens terzo in 27,06. Era dal 2012 che Fabio non riusciva ad agguantare un podio europeo su questa distanza i campionati di Debrecen in puro clima preolimpico. Sei anni dopo il Forlivese sembra ormai rinato, una campione nel pieno della propria maturità, come ha poi confermato nell'intervista concessa al termine della gara. Sono venuto qui per ottenere esattamente questo risultato e quindi ho raccolto il massimo. Non sono nella condizione migliore, ma alla fine ho tenuto e questo argento mi ripaga dei tanti sacrifici compiuti in questi ultimi anni, in cui sono riuscito a tornare competitivo ai massimi livelli. Queste le sue parole da vice campione europeo dei 50 Rana. E per il volley si è scelta la linea della continuità in casa Olimpia Teodora. Immancabile la conferma del capitano Lucia Bacchi, così come quelle per Aluigi Valicelli, oltre alla giovanissima centrale Torcolacci. Ad arricchire la formazione arriva invece la centrale Chiara Lombardi, quest'ultima reduce dalla vittoria del campionato di B1 con la Coveme, San Lazzaro. È tutto per questa edizione, grazie dunque per essere stati qui con noi. E linea che torna a Elisabetta Zandoli. Arrivederci. E sentiamo da Andrea Raggini quali sono invece le previsioni di meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di venerdì inizierà con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi in Emilia Romagna. Tuttavia nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà. Infatti siamo sotto la protezione dell'alta pressione ma aria leggermente più fresca in quota potrebbe determinare un nuovo aumento dell'instabilità. Infatti nel pomeriggio si formeranno addensamenti e rovesci sul nostro appennino che localmente però potrebbero interessare anche i settori centro orientali della nostra regione. Soprattutto ferrarese, bolognese, modenese e parte delle aree collinari del Ravennate. Per quanto riguarda le temperature saranno comunque alte e su valori ampiamente estivi. Infatti i valori minimi saranno compresi tra 21 e 25 gradi. I valori massimi invece compresi tra 30 e più 36 gradi. La situazione meteorologica per quanto riguarda il weekend vedrà una giornata di sabato soleggiata su quasi tutta la nostra regione mentre la giornata di domenica nel pomeriggio vedrà qualche rovescio sul nostro appennino. Temperature in flessione soprattutto sui settori orientali nel corso del fine settimana. Per questo appuntamento è tutto. Buona serata da Andrea Raggini. Prima dei saluti rivediamo i titoli di questo telegiornale. Avrebbero venduto per anni migliaia di dosi di eroina decine di storici tossicodipendenti nella Riminese. Sono stati arrestati dai carabinieri. La maxi operazione antidroga dei militari ha portato all'arresto di 5 persone. Altre 5 sono latitanti. Sarà l'azienda proprietaria dell'autocisterna coinvolta nell'incidente di Bologna a farsi carico dei risarcimenti del sinistro che ha provocato un morto, 145 feriti e 10 milioni di danni. Il sindaco ha preso contatti con l'assicurazione per quella che potrebbe essere un'ingente constatazione amichevole. Continua a tenere banco la questione dei fondi bloccati per il bando periferie. Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, chiede al governo di prendere una posizione ufficiale. In ballo per la zona Ravennate ci sono 12,8 milioni per gli interventi in Darsena. Sul tema del bando periferie si inasprisce il dibattito a Rimini. Dopo lo sfogo del sindaco Gnassi, che ha parlato di rapina, Lega e 5 Stelle replicano duramente. Gnassi delira ha attaccato la parlamentare ricionese Raffaelli. Il suo progetto ha ottenuto una pessima valutazione, ha rincarato la consigliera regionale Sensoli. La proposta di istituire classe ad hoc per bambini immunodepressi e lontana dalla realtà e ghettizza i bambini stessi. Questa è la posizione del comune di Rimini in risposta alla proposta del Ministro della Salute. Calcio, Davide Biondini ha sposato la causa del Cesena con l'entusiasmo di un ragazzino. L'ex giocatore del Sassuolo si è messo a disposizione di Mr. Angelini e vuole farsi trovare pronto in lista dei primi impegni ufficiali. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Sul portale tr24.it trovate come sempre tutte le news aggiornate. Grazie per l'attenzione. Buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena. Da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.